A nome dei comunisti di Grecia mandiamo un saluto caloroso e combattivo ai comunisti d'Italia, al partito comunista e al fronte della gioventù comunista che stanno conducendo la battaglia per le elezioni europee. L'Unione Europea può solo peggiorare, non potrà mai migliorare. I governi borghesi dei paesi dell'Unione Europea applicano le stesse direttive, governi di destra, della sinistra o del centro e attaccano insieme i lavoratori con le politiche antipopolari. Peraltro nel Parlamento Europeo il 90% delle decisioni viene votato da tutti quanti in comune. In Grecia il governo Sirisa, che era stato molto pubblicizzato in tutta l'Europa e anche in Italia, ha smentito ogni aspettativa. Quelli che oggi tengono nelle loro mani il comando del potere, dell'economia e della politica, che possono essere rappresentati da governi di finta sinistra come in Grecia o di destra come in Italia, non regaleranno niente ai lavoratori. Quello che hanno ottenuto i lavoratori, quello che hanno ottenuto i popoli, l'hanno ottenuto con la loro lotta. I partiti comunisti erano e sono nell'avanguardia delle lotte per le conquiste popolari. Il voto per i partiti comunisti alle elezioni europee è un contributo al rafforzamento della lotta comune dei nostri popoli. Viva il partito comunista in Italia, viva l'amicizia e la collaborazione tra il partito comunista di Grecia e il partito comunista. Viva l'internazionalismo proletario. Non c'è vittoria, non c'è conquista senza un grande partito comunista. Viva l'internazionalismo proletario.